Mi sento molto coinvolto per quanto riguarda il gioco del mister perché è un gioco che comunque sia rispecchia le mie caratteristiche. Poi comunque sia mi hanno sempre parlato bene del mister, mi hanno sempre detto che io farei sempre al caso suo. Per quanto riguarda l'attaccante di alto spessore non ci sono attaccanti di alto spessore o meno. Con questo mister bisogna correre e comunque sia fare bene e aiutare molto la squadra e poi il resto viene da sé. Per quanto riguarda la prima domanda? Allora a Piacenza sono andato gli ultimi sei mesi, ho provato ad aiutarli purtroppo non riuscendoci. Però comunque sia sono venuto qui per riscattarmi in questa società e città gloriosa. Dopo due anni un po' bui per un motivo o per un altro ma sono molto convinto che con il mister faremo bene e sono fiducioso per quest'anno. Sicuramente avere la famiglia, la ragazza accanto mi aiuta molto, però questo non ho mai dato peso perché abitando sempre lontano comunque sia non c'è mai stata questo segno di debolezza. Però mi può aiutare molto la mia famiglia appunto con la mia ragazza a fare bene, a sentirmi ancora di più a casa e sentendo anche soltanto il dialetto o le persone calorose come noi potrò fare bene. Sì, ho firmato un contratto annuale e sono passato a titolo definitivo dall'Avellino. Sì, mi è venuto in mente, abitando allo stadio San Filippo, mi è venuto in mente quel gol dall'altra parte della curva. Sono sempre dei bei ricordi, spero di farne tanti adesso con la maglia del Messina, sia in quella curva che soprattutto nell'altra sotto i nostri tifosi. Sarò molto breve e diretto. Praticamente il Messina mi ha contattato gli ultimi 10-15 giorni, all'inizio non c'è mai stata una trattativa, forse hanno parlato tra di loro, tra le società, come è giusto che sia. Ed è iniziata questa trattativa da 10 giorni a questa parte. Poi con il mio procuratore ne abbiamo parlato e giorno dopo giorno comunque si è trovato l'accordo tra l'Avellino e il Messina e sono sceso giù. Ma in realtà il Catania è la mia preda preferita, perché negli ultimi tre anni ho fatto tre o quattro gol contro il Catania. Però ci sta e c'è sempre molto rispetto con il Catania, nonostante io sia palermitano e adesso messinese con la maglia e con il cuore. Però c'è sempre molto rispetto e spero di farne molti, a prescindere che sia il Catania o tante altre squadre. Grazie a tutti.